operazione caliban avviata che cazzo è? operazione caliban? no che cos'è sta roba? cos'hai fatto a partire? caro no con chi? ua che sia c'è il tempo siamo io teo matteo non c'è come fai a non essere accettivo? la fermo le vedo tutte le anomalie eh io non ne ho vista mezza so voi a me non sparano qua non so perché non so a me mi hanno sparato tutti mi hanno fatto un male gare ma guarda dove sta con l'anomalie non ho mai visto sigilli dell'alveare sulla porta umana la vita non si recupera aspetta devi correre guardate anche in alto che ogni tanto ci sono delle anomalie nascoste adesso non c'è nascoste non c'è sembra però si Sono ad entrare nella boccia di misterio. Guardiano a terra. Guardiano a terra. Occhio adesso state indietro. Mi togliete sto schiavo dal davanti? Stavo mirando il cavaliere con il lanciarazzo. Con un colpo mi ha shottato. Andiamo. Andiamo a terra. Reanima. Teo prima magari. I rituali dell'alveare sono alimentati dal sacrificio e dalla morte. Se non riuscite ad avanzare la ritirata è sempre un'opzione. Meglio salvare la luce per un'altra battaglia piuttosto che morire divorati dall'alveare. Ne siamo consapevoli. Ma abbiamo accettato la missione e non faremo marcia indietro. Comandante? Non avvicinatevi. Giuro che se provate a trasformarmi in uno di quei dannati cristalli... L'origine della trasmissione è nei paraggi. Presto. Caliban, mi ricevete. Caliban, mi ricevete. Non capisco. Il guardiano dovrebbe essere qui da qualche parte. Caliban, mi ricevete. Caliban, mi ricevete. riesci guarda là dove stava aspetta un secondo la specie di sigillo d'evocazione rilevo una rete magica nelle profondità dell'arcologia alimentata da luce del vuoto stanno sfruttando la luce del vuoto per evocare qualcosa aiuto mi sentite? ho appena sentito qualcuno comandante Zavala riesci a sentirmi? si ti sentiamo grazie al viaggiatore riesco a malapena a sentirmi aspetta che cambio posizione stanno alimentando quel rituale d'evocazione oh che mire di merda oh dove va oh che mire di merda mi sono fatto inculare ci siete ancora sconosciuti? parla da eco3 non spezzatemi fuori ti sentiamo ottimo non allontanatevi credevo di dover far fuori quegli assassini da sola ma tu sei resistente? cazzo non allontanatevi che è proprio bastarda mi continuo a dirmi hanno maglia rilevata io non ne vedo mezzo sono davanti a un immenso rituale d'evocazione e c'è l'urlatore più grande che io abbia mai visto ne sono certa c'è un altro vabbè andiamo parca puttana se fate male però non ho fatto da promuovere questa distruzione è l'uratore è 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 guardiano a terra che coglioni bello l'ho mancato in un poco c'è da andare a riprendere la roba adesso io ho il colosso non 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 qui al tanto vuoi metterla giù con la roba lì io prendo il colpi che non ne ho forse ho un'idea troviamo taeco sono cinque minuti non faccio fare mai a farlo indietro brutto pezzo di malierda che non penso ci siano ancora anomalie se non quelle di prima sarebbe un ottimo piano se solo ci fossero dei cristalli qui dentro avete ragione un modo per vincere c'è quali modo abbracciare il fuoco prassico che cazzo hai nascondete sti cosi in 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 Sì 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 Nessu ulto eh raga Sì 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 Non ho neanche l'invisibilità E dov'è finito scusa il mio razzo quello che ho tirato addosso alla magliarda dov'è? Sì Sì Io ho un ultimo missile Sì Ma... Sì Sì E voglio vedere quell'Oltra 100 che cazzo è? dammi la merda su grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao